Un'occasione per le imprese, il commercio e anche le amministrazioni. È il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nella sede della ConfCommercio Molise a Campobasso partecipato Focus con imprenditori e anche qualche amministratore per capire i contorni di uno strumento definito e importante a illustrare i dettagli Gianluca Luise, docente del Dipartimento di Scienze e Politiche dell'Università di Napoli Federico II. I fondi ci sono e sono reali, ha spiegato. Bisogna saper programmare gli interventi per l'immediato futuro perché poi il PNRR avrà una durata molto ristretta nel corso degli anni quindi ci saranno soldi da poter spendere se raggiungiamo degli obiettivi attraverso una corretta macchina amministrativa che possa poi far arrivare le risorse direttamente sul territorio e quindi anche a vantaggio degli imprenditori e degli imprenditori molisani. Cosa occorre che facciano amministratori e imprenditori? Le amministrazioni devono capire quelle che sono le linee guida del PNRR e non immaginare di poter realizzare cose diverse da quelle che sono previste perché le linee sono molto stringenti. Gli imprenditori di conseguenza ci saranno opportunità a vario titolo soprattutto nel settore del turismo, del settore dell'internazionalizzazione, della digitalizzazione dei processi produttivi così come in tanti altri settori. Un settore molto importante che è già partito in qualche modo è quello a vantaggio dell'imprenditoria femminile e delle start-up. Le opportunità saranno tante ma bisognerà avere la competenza di saper leggere esattamente cosa si potrà realizzare con quei fondi e con quei fondi cosa potranno finanziare. Un concetto ribadito anche da Paolo Spina, presidente di Confcommercio Molise, che chiede a governo, nazionale e regione per le scelte strategiche il coinvolgimento delle associazioni di categoria delle parti. Un flusso di denaro massiccio finanziato dalla comunità europea, dall'Unione Europea, di 191 miliardi più altri 40 miliardi che vengono investiti dal nostro Stato, dal nostro governo, con una somma di 230 miliardi che vale parecchie finanziarie. Quindi è un momento importantissimo per la nostra regione, per quello che è competenza della nostra regione, ma anche un momento estremamente importante di condivisione della programmazione di quello che potrà essere fatto sul nostro territorio. Vengono trattati a livello...